buonasera ci troviamo qui nella chiesa di sant'antonino di padua il milazzese lo chiama sant'antonino ed è una tradizione per il milazzese venire qui in processione fino al santo secondo la tradizione questa grotta che è scavata nella roccia fu il rifugio del santo che si chiamava ferdinando era un missionario portoghese di buoles e la leggenda vuole che la nave dirottata da una violenta tempesta durante un viaggio verso la natia lisbona siamo nel 1221 dicevo la leggenda vuole che il santo naufragasse proprio qui nella bellissima baia di sant'antonino che avete visto nelle immagini e la grotta dopo la sua morte avvenuta nel 1231 e ricordiamoci che fu canonizzato nel 1232 venne trasformata in un luogo di preghiera e poi in un santuario e poi risultano diversi interventi nel 1575 nel 1737 nel 1783 l'altare maggiore è stato realizzato nel 1699 e c'è un bellissimo altare che in diciamo rifacimento della madonna della provvidenza la tradizione vuole che la sera del 12 tra il 12 e il 13 i giovani si reghino in pellevinaggio per la visita al santo grazie e buona visione grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti